In apertura della pagina spezzina di avvenire di questa settimana i riti di avvicinamento alla Santa Pasqua. Questo pomeriggio alla Speziano in Cattedrale la benedizione dei ramoscelli di Palma e di Olivo e domani il rito si terrà alle 10.30 nella pieve battesimale di Santa Andrea a Salzana. Trovate poi tutti gli altri appuntamenti fino appunto alle celebrazioni pasquali. Samuele diventa diacono il 13 aprile, la solenne celebrazione presieduta dal Vescovo nella Cattedrale di Cristo Re per appunto la cerimonia di ordinazione a diacono di Samuele Bragazzi che prosegue così il proprio percorso. A Cassego i campi estivi tra giugno e agosto ragazzi e ragazze di tutte le parrocchie che trascorreranno giorni di svago e di formazione al centro San Pio X. Trovate tutti i periodi previsti per le diverse fasce di età e le modalità di partecipazione. A fianco la crocifissione del giovane Brugel esposta al Museo di Ocesano di Salzana a partire da giovedì prossimo. A fondo pagina il ricordo del giovane sacerdote Don Alberto Zanini scomparso nel 1992 nel corso di una escursione con i suoi ragazzi. È stato ricordato con una messa di suffragio a Monte Rosso nei giorni scorsi. E poi altri appuntamenti previsti per il periodo primaverile e estivo promossi dall'ufficio di Passorale per la famiglia della diocesi della Spezia a Salzana Brugnato. Il primo di questi appuntamenti si terrà domenica 14 aprile un pellegrinaggio a Fontanellato. Trovate poi anche gli altri appuntamenti previsti. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico. a venire.